Di Cipro la contromossa, Papatanasiu, proprio per dare un nuovo equilibrio alla formazione, la palla in rete, la palla in rete, il vantaggio di Cipro, ha segnato Cipro, colpo a sorpresa su un pallone vagante che sembrava destinato. Andiamo a rivedere, pallone dalle retrovie proprio di Aloneftis, guardate qui che gran palla quella di Aloneftis, si tuffa incontrollato il numero 11 Costantinu. Poi è Cipro che riparte con Garpozis, quindi Nicolau, palla all'indietro sulla quale arriva e perde palla però la difesa, parte e tira il pareggio, è il pareggio, il pareggio di Kobyashvili, il gol proprio quando Cipro sembrava ormai avere. Capitano, rivediamo ancora l'errore della difesa con Costantinu, sulla palla vagante arriva per primo Kobyashvili che trova lo spiraglio, scatena il sinistro, palla che passa sotto il corpo del portiere Cipro.